Il consiglio che vi proponiamo quest'oggi è molto semplice, usate i metodi di fusione. I metodi di fusione sono uno strumento molto potente e giusto per darvene un assaggio, vi proponiamo questo semplice esperimento, tieni premuto il tasto ALT sulla tua tastiera e clicca sull'iconcina per creare un nuovo livello. Ora scegli il metodo di fusione luce vivida e seleziona la casellina riempi col colore neutro di luce vivida grigio 50%. Diamo ok, a questo punto preleviamo un pennello tenendo un'opacità veramente molto molto bassa, per esempio il 19% lasciando il colore di riempimento bianco e passiamo per esempio su questa parte dell'occhio per illuminarla un pochettino e aprirne ulteriormente la luminosità. Se esageriamo chiaramente come stiamo facendo adesso semplicemente per uno scopo dimostrativo, didattico, vedete quanto la luce, quanto la luminosità della nostra immagine si può aprire. Immaginate tutta la potenza dei metodi di fusione usata con accuratezza e con la giusta tecnica. Per il momento incominciate a sperimentare questo specifico trucco e vedrete che i bianchi, la luminosità, la luce delle vostre foto ne guadagneranno netter nettamente. Grazie a tutti.